La morte di Elisabetta di Inghilterra, di la regina Elisabetta, di ieri 8 settembre 2022 sta creando, diciamo così, un tam tam frenetico qua su web, perché tanti vogliono sapere che fine farà, dove verrà tumulata la regina Elisabetta, dove il suo corpo verrà sepolto, quindi il umato, e dove appunto si terranno i relativi funerali della famosa regina Elisabetta. Bene, vi informo che la regina Elisabetta, per l'appunto, avrà il suo funerale nel day 10, dopo 10 giorni circa di tempo, ci si mette un po' di tempo, nella pazzia di Westminster, chiamata precisamente a Westminster, a Belie. Il paese andrà a osservare ben 120 secondi di silenzio, nei quali 120 secondi ovviamente si raccoglieranno le idee, e ci sarà un momento di piano raccoglimento davanti alla morte della regione Elisabetta, che si è spenta ieri a 296 anni Elisabetta. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi, se vi va, commentate, non sto guardando la notizia.